Buona serata, nuova edizione del TV giornale di Telestense, tra le notizie di cui ci occuperemo questa sera vi parleremo della bocciatura dell'ordinanza che avrebbe dovuto anticipare all'11 di maggio la riapertura dei negozi a Ferrara, così non sarà, i negozi dunque apriranno il 18 di maggio come nel resto d'Italia. Vi parleremo anche del capo della squadra mobile Crucianelli che saluta la città di Ferrara, questa mattina è venuto in visita a Telestense, sentiremo dunque le parole che ci ha rilasciato e poi avremo fatto un tour tra i parchi riaperti, vedremo dunque quali sono le aree verdi a disposizione della città di Ferrara. Cominciamo subito con l'aggiornamento sul coronavirus, ci sono 11 casi positivi in più a Ferrara rispetto a ieri con un leggero aumento quindi del trend dei nuovi casi che sono complessivamente 951 dall'inizio dell'emergenza. Una condizione positiva ma che deve essere tenuta sotto controllo specialmente nelle case di riposo. Continua però il calo dei casi attivi anche in regione dove si stanno facendo però meno tamponi perché come dice il commissario regionale dell'emergenza dell'Emilia-Romagna Sergio Venturi ci sono meno segnalazioni di infezioni. In Emilia-Romagna quindi dall'inizio dell'epidemia da coronavirus si sono registrati più di 26 mila casi di positività, 104 in più rispetto a ieri. Ancora un aumento fra i più bassi mai registrati finora. Purtroppo però si registrano ancora 32 decessi in regione, 16 uomini e 16 donne. Complessivamente in Emilia-Romagna siamo arrivati a 3.737 ma nel ferrarese non si è registrato nessun nuovo decesso. Sentiamo dunque il commissario Venturi. Perché si fanno meno tamponi? Una delle cause perché si fanno meno tamponi è perché ci sono meno segnalazioni da parte dei medici di famiglia. I medici di famiglia sono diventate le nostre sentinelle, ancora lo saranno nel prossimo futuro e questo significa che sono quasi ridotte a zero le segnalazioni da parte dei cittadini che telefonano al loro medico lamentando la tosse, la febbre, i sintomi del Covid. Per questo si fanno meno tamponi anche a Piacenza e questa è una buonissima notizia che posso dare a coloro che vivono a Piacenza e nella sua provincia. Si fanno oggi meno tamponi rispetto a una settimana fa perché ci sono meno segnalazioni, meno segnalazioni precoci, meno segnalazioni nelle case protette. Insomma stiamo davvero andando meglio, molto meglio. Intanto l'emergenza coronavirus ha portato anche ad un calo dei reati, ma sentiamo in particolare i dati dalla questura di Ferrara. Due terzi dei reati in meno rispetto all'anno scorso e quanto la Polizia di Stato ha riscontrato a livello nazionale a marzo, primo mese di lockdown quasi completo. Andamento nazionale che trova riscontro anche nella provincia di Ferrara dove si rileva complessivamente una diminuzione più bassa rispetto alla media ma comunque alta, meno 52%. I reati come sfruttamento della prostituzione sono calati del 50%, i furti del 67%, meno rapine, meno 50% e reati inerenti agli stupifacenti sono calati del 70%. Per quanto concerne i delitti riconducibili alla violenza di genere e stalking, la diminuzione nella provincia di Ferrara è del 15,9%. Nel dettaglio i maltrattamenti in famiglia restano identici, le violenze sessuali da 4 passano a 1, mentre gli atti persecutori da 21 a 15. La Polizia di Stato ricorda che esiste l'app YouPoll per segnalare ogni evento delittuoso, in particolare episodi di spaccio e bullismo, da ultimo anche i reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche. E torniamo dunque sulla notizia anticipata in apertura. Ebbene i negozi di Ferrara non riapriranno lunedì 11 maggio ma lunedì 18 come nel resto d'Italia. La decisione arriva dal prefetto Michele Campanaro che ha considerato inefficace l'ordinanza con cui il primo cittadino Alan Fabri dava via libera alla possibilità per le attività commerciali di riaprire anticipatamente rispetto alla data fissata dal governo. Ritengo sbagliato limitare la possibilità di riaprire di una città come Ferrara che è riuscita a mantenersi sana affrontando per settimane grandi sacrifici e rispettando le regole con serietà. Così apre il commento del sindaco Alan Fabri. Siamo stati tra i primi ad applicare le misure restrittive per la limitazione del contagio. Abbiamo agito anticipando addirittura alcune scelte del governo e della regione e adesso che chiediamo di poter anticipare di una settimana la riapertura delle attività commerciali ancora ferme questa possibilità ci viene negata. Fabri continua augurandosi che il presidente della regione Stefano Bonaccini che a sua volta auspica da parte del governo la decisione di riaprire anticipatamente rispetto alle date previste comprenda l'errore e tenda la mano al nostro territorio. Ferrara è diventata un caso di studio per la bassa contagiosità del virus ora può diventare un progetto pilota per entrare finalmente nel vivo della fase 2 e dare respiro alle attività gravemente danneggiate dal lockdown. Questa è dunque la parola del sindaco che trovate poi anche sul nostro sito telestense.it. Ma parliamo intanto di un'azienda ferrarese che produce abitualmente camicie ma che ha integrato la propria produzione con mascherine su misura. Vediamo di che si tratta. Se la pandemia almeno nella nostra provincia è stata finora relativamente contenuta rispetto ad altre province molto più colpite da Ferrara si sta diffondendo quella che potremmo definire una nuova pandemania. Quelle per le mascherine griffate ideate e realizzate da una giovane imprenditrice Annalisa Busi titolare di un noto atelier del centro cittadino in via Garibaldi che produce camicie su misura. Ed ora anche mascherine diciamo così d'autore. Vi stanno aggiungendo mi sembra richiesto un po' da tante località. Esattamente così e le nostre mascherine come abbiamo appena detto si stanno diffondendo un attimino in tutta la penisola sia dalle città più colpite Brescia, Bergamo che anche nelle isole perfino in Sicilia, inaspettatamente. Ma che caratteristiche hanno le vostre mascherine e come è nata appunto questa idea? Allora le nostre mascherine sono confezionate in due strati 100% cotone e sono confezionate appunto con i tessuti che usiamo solitamente da camiceria. Questa è praticamente l'idea è venuta adatta all'emergenza da coronavirus e abbiamo iniziato subito a pensare a come poter essere utili alla nostra società. Inizialmente è solamente su Ferrara. Abbiamo quindi iniziato a creare il primo prototipo di mascherina e dopo le abbiamo subito siglate con le iniziali. Forniscono comunque una protezione ritenuta valida, quantomeno alla pari delle classiche mascherine chirurgiche? Esatto, sono equiparabili alle mascherine chirurgiche in quanto riescono a prevenire la diffusione del virus però non avendo filtri non ne garantiscono appunto l'immunità. L'unica cosa è che sono lavabili per cui come le nostre camicie si possono mettere in lavatrice e quindi disinfettare per cui sono riutilizzabili. La produzione è avviata ma avete già come dire una mole significativa di ordini ma anche di prodotti? Assolutamente, siamo già come tempistiche alle due settimane circa come consegna appunto perché abbiamo richieste da tutta Italia per cui siccome i prodotti vengono confezionati su esclusiva richiesta del cliente capiamo che ci serve un attimino del tempo e appunto costano leggermente di più però siccome non vogliamo speculare sulla salute dei cittadini abbiamo deciso oltretutto all'acquisto delle nostre mascherine di regalare degli sconti per i nostri prodotti principali che sono le camicie, gli accessori, le cravate. Di solito il nostro cliente gradisce appunto vestire sempre elegante a partire dalla camicia per cui avere sempre qualcosa di coordinato, un accessorio alla camicia è diventato ovviamente un attimino, insomma una cosa molto carina e simpatica e addirittura appunto anche per i bambini siccome appunto ci sono mascherine anche per i bambini ad oggi sono obbligatorie abbiamo capito che i bambini si divertono ad avere anche il loro nome ricamato sopra e quindi le portano più volentieri. E adesso invece cambiamo argomento perché dopo dieci anni il dirigente della squadra mobile di Ferrara cioè il vicequestore Andrea Crucianelli lascia la questura estense per andare a dirigere il commissariato di San Benedetto del Tronto. Oggi lo abbiamo salutato e ci ha raccontato la sua lunga esperienza. Dieci anni importanti vissuti intensamente, una città che è cambiata e ha passato diverse situazioni che si possono definire storiche dal terremoto del 2012 alla promozione della spalla in serie A fino all'emergenza coronavirus di oggi. Nel mezzo tante vicende drammatiche, la lotta alla criminalità con indagini anche importanti. Questi sono stati dieci anni a Ferrara come dirigente della squadra mobile per Andrea Crucianelli, teramano di 43 anni, sposato con due figli di 3 e 6 anni che hanno vissuto nella città estense. Ora la famiglia seguirà il vicequestore nella sua nuova esperienza professionale nelle Marche. I risultati sono stati tanti, il più importante è quello che ricordiamo un po' tutti soprattutto è l'arresto dei tre responsabili dell'omicidio Tartari che è stata una situazione molto molto particolare, delicata per tutta la città, per come era avvenuto l'omicidio e per il rapporto umano che c'è stato anche con i familiari. Non dimentichiamoci la signora Leda Vanzi, anche la signora Leda Vanzi era stata uccisa in maniera molto cruente, quindi anche quello è stato un caso che io ricordo molto, che ho molto a cuore, insomma, ecco, quindi soprattutto perché poi anche lì è stato risolto anche in tempi brevi. Poi, che dire, i risultati sono stati tanti, ho condotto indagini che vanno dalle rapine, i furti, lo spaccio di droga, lo sfruttamento della prostituzione, quindi i servizi al grattacielo sono stati tantissimi e devo dire che i risultati adesso cominciano a vedersi perché la situazione è sicuramente migliorata molto rispetto a dieci anni fa. Lascio una città bella e vivibile, abitata da persone con un alto senso civico che hanno sempre massimamente collaborato con noi, aiutandoci anche a risolvere dei casi complicati. Ringrazio quindi i cittadini che sono i nostri occhi in più sul territorio e soprattutto lascio un ufficio, la squadra mobile, fatto da persone straordinarie che hanno dato tutto in questi anni, da cui ho cercato anche di carpire il mestiere, perché i trucchi del mestiere che mi hanno insegnato tanto. Devo dire che mi hanno comunque anche non solo supportato ma anche sopportato nei momenti di tensione e di massimo lavoro, quindi il ringraziamento principale va a loro. Dal lunedì 18 maggio Dario Virgili della squadra mobile di Bologna dirigerà lo stesso reparto di Ferrara e Crucianelli invece raggiungerà San Benedetto del Tronto. Per me è sicuramente una nuova avventura professionale, considerato che passo dalla dirigenza della squadra mobile alla dirigenza di un grande commissariato, quindi sono pronto a mettermi al lavoro al più presto e sicuramente col massimo impegno. Crucianelli dopo l'esperienza di Ferrara e precedentemente in altre città, ora torna nella sua regione di nascita alle Marche. Un piccolo ritorno a casa che ogni tanto, visto che non ci sono mai stato vicino casa, fa anche piacere. Adesso invece parliamo dei parchi della nostra città perché da ieri alcuni parchi ed anche i cimiteri sono stati riaperti al pubblico. Sentiamo nel dettaglio quali aree verdi possono essere nuovamente frequentate. Parco Massari, Parco Pareschi, Parco della Vita, Ippodromo, Acquedotto e Centro Sociale del Parco. Sono questi i parchi riaperti a Ferrara dal 5 maggio. A comunicarlo è stato il sindaco Alan Fabri che ha firmato l'ordinanza che indica le zone verdi in grado di riaprire in sicurezza, controllando gli accessi ed evitando gli assembramenti come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Restano chiusi al momento il Parco Urbano Bassani e le Mura. Del dettaglio i parchi sono stati riaperti al fine di consentirne la frequentazione da parte dei cittadini e degli animali da compagnia, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di ogni forma di assembramento. Le altre aree verdi, non indicate dalla nuova ordinanza e chiuse con l'ordinanza sindacale del 14 marzo 2020, e le aree attrezzate per il gioco dei bambini e l'uso delle strutture per il gioco e per altre attività ludiche, rimangono chiuse e non utilizzabili, anche se collocate all'interno di parchi pubblici o aree riaperte con la presente ordinanza. Con la stessa ordinanza, inoltre, è stata disposta la riapertura dei cimiteri. Gli orari e le modalità di accesso al pubblico in vigore restano quelli precedenti alla chiusura, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di ogni forma di assembramento. Conseguentemente, si legge nell'ordinanza, è consentita la riapertura al pubblico dei negozi e dei chioschi di fiori nelle adiacenze dei cimiteri comunali, assicurando che l'accesso a tali esercizi avvenga ad opera di un solo componente del nucleo familiare, salvo accompagnamento di minori o di persone non autosufficienti. Intanto torniamo a occuparci delle attività commerciali aperte in questi giorni, ma in particolare tra le attività che erano già aperte prima della fase 2 c'erano anche le librerie. Siamo andati a sentire se in questi giorni si è registrato un ulteriore aumento della clientela. Il primo giorno di fase 2, le librerie, come sappiamo, sono già aperte ancora dal 14. Noi siamo aperti, sì, dal 14. Che cosa sta cambiando oggi? Beh, c'è molta più gente, c'è molta più gente sin dall'apertura e abbiamo avuto proprio delle code, anche perché il lavoro è molto più rallentato rispetto a prima per le distanze, quindi diciamo che è un attimo fare le code, però le abbiamo avute per un bel mezz'ora, tre quarti d'ora proprio di coda costante e poi comunque c'è moltissima gente, cioè io vedo rispetto alle altre settimane la via è piena di gente, c'è un sacco di gente in bicicletta che prima erano spariti quelli in bicicletta, c'è più gente. Con il fatto che hanno aperto i bar anche che fanno da asporto, anche quello incentiva a uscire perché il voglio di un espresso credo che sia un desiderio, io almeno ne ho profittato. Se ci comportiamo bene credo che si possa fare, però bisogna comportarsi bene. Ecco, qui in libreria che comportamenti fate adottare? Allora, mascherina che è obbligatoria, da sempre anche sin dall'inizio noi facciamo mettere o i guanti o il gel, cioè non entrano con le mani assolutamente, le mani senza nulla e poi chiediamo la cortesia di fare cose rapide, cioè l'ingresso in libreria è sempre un ingresso finalizzato, non alla vendita, però a una cosa specifica, cioè il giro che si faceva una volta, che si poteva permettere di stare anche mezz'ora a guardare, adesso non riusciamo più a farlo, non in tutte le fasce orarie, ecco. Ecco, un'altra domanda, i tipi di libri che vengono acquistati sono cambiati in questo periodo? Assolutamente, assolutamente, è una bella domanda. Allora, non vendiamo praticamente più saggistica, se non pochissime cose, soprattutto nelle due settimane prima del, quando eravamo ancora in lockdown, insomma, perché comprano romanzi, cioè romanzi gialli, la gente vuole distrarsi, non ha bisogno, cioè libri sui virus, non ne ho mai venduto uno, tranne Spillover, che è quello più famoso di QAnon, ma il resto, tutti romanzi, romanzi e qualcuno per studio, qualche studente ovviamente, però soprattutto romanzi. Ecco, per finire, il tipo di clientela è sempre lo stesso? No, 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 sempre i nostri clienti, riconoscibili, come il signore sulla porta, che lo conosco da quando era un ragazzino, ciao. No, no, i clienti sono sempre gli stessi. E adesso invece parliamo di un'altra iniziativa riguardo alla brigata aereo mobile Friuli, che aderisce alla campagna di raccolta fondi della regione Emilia Romagna, Insieme si può, e dona oltre 10.000 euro. La somma è destinata agli ospedali del territorio regionale, mediante l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. L'assegno è stato consegnato ieri al presidente Stefano Bonaccini. Vediamo. Oltre 10.000 euro per gli ospedali dell'Emilia Romagna è la donazione brigata aereo mobile Friuli, frutto di una raccolta volontaria tra il personale militare, nell'ambito della campagna e Insieme si può, avviata dalla regione, per sostenere la sanità regionale durante l'emergenza coronavirus. A consegnare l'assegno di 10.420 euro il presidente Stefano Bonaccini è stato il comandante dell'unità dell'esercito italiano, generale di brigata Stefano Lagorio. Una somma raccolta in una sola settimana. Voglio ringraziare pubblicamente la brigata aereo mobile Friuli, che in maniera straordinaria è generosa, ha fatto una donazione di oltre 10.000 euro che andrà a ripinguare il fondo regionale che verrà completamente utilizzato per gli interventi sulla sanità pubblica e il rafforzamento del Lab nazionale Covid, perché in quattro città di questa regione andremo a realizzare 145 nuovi posti letto di terapia intensiva che serviranno per l'oggi e per il futuro, cioè per sempre, a disposizione di eventuali pazienti di questa regione o anche di altre parti del paese, perché ci sentiamo italiani prima ancora che miliano romagnoli, per eventuali, speriamo di non averne mai bisogno, ma per eventuali gravi epidemie che in futuro dovessero arrivare, perché ciò che ci ha insegnato questa pandemia è che bisogna avere dei reparti dedicati, completamente staccati dal resto dei reparti ospedalieri. Questo per quanto riguarda le notizie di questa edizione, però vi ricordo invece gli appuntamenti della serata su Telestense, cominciamo dalle 20 dove tornerà Campagna Amica News, alle 21.30 l'appuntamento di Con i piedi per terra, mentre alle 22.30 itinerari del Delta. Vi segnalo anche Telestense.it per queste e altre notizie che poi trovate sui nostri canali social, Telestense è su Facebook, su Twitter e su YouTube. Grazie dunque per averci seguito, come sempre l'appuntamento rinnovato alla prossima edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.